Si sono accampati con tende in aree private, senza acqua e nel luce, a Cassiby, la sud di Siracusa, dove da tre anni c'è un ostello che ospita 104 braccianti stagionali stranieri impiegati nella raccolta degli ortaggi, con regolare contratto di lavoro, hanno un permesso di soggiorno e registrati nella piattaforma Ebat. Chi è impiegato in nero e non ha trovato ancora lavoro, vive nel periodo della raccolta nella tendopoli, come questi due braccianti arrivati da Mazzara del Vallo. Qui fanno i contratti o no? No, senza il contratto, non posso dormire il campo. La tendopoli, seppur ridimensionata e sparsa attorno al centro abitato, è ricomparsa in questo territorio. Bisogna coinvolgere i sindaci dei comuni limitrofi, i datori di lavoro, le associazioni di volontariato, le istituzioni anche nazionali e regionali e quindi promuovere questa accoglienza diffusa. Il protocollo d'intesa voluto dalla prefettura di Siracusa, sottoscritto nel 2021 dai 21 sindaci della provincia, dalle associazioni di categorie e dei sindacati, va in questa direzione. Intanto, sulla tendopoli, le istituzioni sono pronte allo sgombero. L'obiettivo finale della strategia che abbiamo messo in campo a livello provinciale è che ovviamente richiede tempo per essere attuata a regime, oltre che la piena collaborazione di tutti i soggetti firmatari, punta a far sì che questi lavoratori stagionali possano trovare alloggio, visto che comunque non hanno diritto all'assistenza pubblica, perché si tratta di lavoratori a tutti gli effetti e che possano trovare alloggio presso le aziende, a carico eventualmente anche dei rispettivi datori di lavoro in tutta la provincia.